andiamo nella bellissima val badia precisamente a san martino in badia perché lì perché io ci ho fatto le vacanze per molto tempo e c'era un fornaio è un paese piccolissimo anzi una fornaia io penso sia stata la prima volta nella vita che ho visto una fornaia donna che mi ha insegnato a fare questi biscotti natalizi ma anche no però soprattutto natalizi allora io ho messo della farina 450 grammi la vado a setacciare con mezza bustina di lievito che è così sappiate che sono dei biscotti come ho detto del prologo ha fatto dietetici però sono molto ma veramente molto buoni vale la pena mangiarne meno ma mangiarli buoni ok faccio un piccolo buco in mezzo ok ci vado a mettere due uova intere ok poi cosa serve ancora un pizzico di sale ci vado a mettere 120 grammi di zucchero semolato due bustine di lievito vanigliato ecco qua e avete già capito che adesso si comincia col lavoro allora comincio così dal centro a impastare e intanto vi racconto come mai spesso questo piccolo paesino che tra l'altro è un paese uno di pochi in cui si parla ancora la lingua ladina in realtà cioè si chiamava al chastel de tor in ladino il castello di tor e poi è diventato insomma san martino in realtà il castello starebbe un po più sopra nella frazione di antermoia ma fa sempre parte dello stesso comune ecco cos'era questo castello questo castello molto antico 1250 60 era di proprietà del vescovo di bressanone poi diciamo che le varie è stato venduto eccetera finché insomma alla fine di tutto è stato acquistato da dei contadini in origine però ecco adesso intanto vi dico 225 di burro ammorbidito a pezzetti lo so molto burro però sono molto buoni vi assicuro è una specialità loro proprio ecco andiamo a coprire con le mani il tutto così ok e cominciamo a comprimere e finché comprimo perché il burro va sciolto con le mani finché l'impasto avrà la consistenza che poi vedrete tornando al nostro castello vi devo dire che questo era il castello del giudizio che prendeva una vasta area di quella zona infatti io mi ricordo che quando andai a visitarlo la cosa più diciamo purtroppo più attraente era la sala delle torture e c'erano queste cose tutte fatte in legno che insomma facevano una certa impressione cioè dal non so dal tirare i muscoli su una tavola con delle corde ad altre cose insomma non insomma va bene rispecchiamo un po la civiltà del tempo non dico di no però non erano gran buoni ecco cioè non era bene cadere nelle loro mani allora poi alla fine questo castello venne acquistato da dei contadini e pensate che è una cosa decente perché questi contadini rimasero lì proprio fino al 2000 quindi non è tantissimo insomma è una ventina d'anni e adesso questo castello è stato trasformato in museo ladino proprio per conservare la cultura ladina che insomma è un po' attenzione devo dire in proposito che con mia grande sorpresa che insomma sorpresa o ignoranza come volete chiamarla la lingua è ladina io pensavo fosse un derivato del tedesco ma poi visto che appunto l'alto adige insomma quella parte lì è confinante e quindi pensavo fosse una derivante ma poi ho scoperto che nel nostro veneto in provincia di belluno nella valle del comelico si parla ladino e quindi boh non mi sono informata non voglio fare una figuraccia ma forse è una derivante del veneto più che del tedesco come come pensavo comunque insomma per parlarvi di questo paesino è un paesino molto piccolo ci sono delle belle passeggiate da fare un laghetto c'è il fiume dove noi appunto da ragazzi ci si incontrava e così insomma che si fa vicino un fiume si raccolgono sassi si cercano fossili si fanno un po di cose così da ragazzi insomma come tutti sapete bastava un muretto insomma per raccontarcela non come ora che invece senza cellulare siamo tutti persi io compresa che sto facendo il video poi alla fine no comunque se capitate da quelle parti vale vale proprio la pena è proprio il tipico paesino di montagna ecco come vedete la pasta sta prendendo forma ecco adesso continuiamo a lavorarla qui che ho formato questa palla ok vedete abbastanza elastica ok adesso vado a mettere un poca di farina e andiamo a fermare i nostri biscottini allora intanto la lavoro ancora un attimino ok ma sappiate diventa un po un po di cosetta mamma mia io vado meglio sul tavolo di legno è proprio perché oggi poi non ho tempo allora prendo una parte di pasta ok metto ancora un poca farina ok e ci dopo di massarello ecco non fatelo troppo sottile ok altrimenti poi i biscottini bruciano e intanto ho preriscaldato il forno a 180 gradi ecco non so se si vede io qui vi faccio ad esempio perché poi non vi voglio annoiare con tutti i biscottini ma lo spessore perché poi gli eviteranno anche un po è circa così ma un poco meno ecco questo spessore qua spero che si veda poi vado a prendere le mie formine allora essendo natalizia non so ma anche un po montanare io faccio dei cuoricini faccio non so la stellina cometa faccio una stella poi insomma quello che avete io a volte non ho niente quindi li faccio con un bicchiere la mezzaluna da qualche parte avevo anche l'alberello di natale ma non lo trovo e poi uno classico così semplicemente così rotondo ecco via via insomma andremo a stendere tutta la pasta la metteremo su una teglia foderata con la carta forno così non ungetela perché già il biscotto ha molto burro e non serve e poi andiamo ad infornarla e per la tempistica vi farò semplicemente vedere di che colore devono diventare i biscotti perché poi ogni forno è a sé e quindi insomma io preferisco sempre non so la vista il tatto piuttosto che dire un tempo che magari c'è un forno che scalda di più uno brucia tutto oppure scalda meno e tira fuori la roba cruda ecco qua ragazzi ho estratto l'ultima in fornata sono un po caldi quindi i tempi sono questi sono dagli 8 a 10 minuti a 180 gradi spessore della pasta circa mezzo centimetro il colore guardate bene deve essere questo e dietro appena appena color miele questa è la cottura perfetta se poi volete potete decorarli io per decorarli adesso vi faccio vedere un esempio ho usato quelle cose che si trovano nei calendari dell'avvento ok e ho messo sopra scaldo un attimino sotto la cialdina con l'accendino e attacco sopra così tanto per per fare una cosa ecco qua vedete guardate che diventano sì se facessi meno confusione diventano molto carini anche oppure con un po di zucchero a velo o anche così che sono buonissimi li ritrovate così puri e semplici è però se volete scatenare la vostra fantasia natalizia lo potete ovviamente fare perché è una pasta che si presta con tutti allora con i miei biscotti del chastel de torre di san martino in badia grazie alla fornaia io vi saluto e vi chiedo di dirmi se provate a farli se li trovate buoni ma scrivetemi anche solo per un saluto di iscrivervi al mio canale per sostenermi e di mettermi questo pollicione che significa like ok ragazzi ciao e alla prossima ciao